Ciao a tutti e benvenuti. La riflessione, anche un po' amara se volete, e non semplicissima, della giornata di oggi è che mi sembra di cogliere un po' in giro che Simon Kier ci abbia insegnato poco, nel senso che è appena trappelata la notizia del fatto che domani ci dovrà essere un intervento in artroscopia per affrontare il danno legamentoso che ha subito in Genua Milan e vedo già fiorire diagnosi sul suo conto, vedo già tifosi sui social che parlano di giocatore rotto, vedo già tifosi sui social che parlano di carriera finita e che parlano di mercato. Cioè un giocatore, oggi è un po' la giornata simbolica, Ericsson e ne sono felice. Torna ad allenarsi su un campo di calcio e Kier domani deve fare questo intervento in artroscopia. Sempre loro due, sempre loro due. Era a terra per problemi ben più seri, ben più gravi Ericsson a giugno e Kier l'ha aiutato a rialzarsi, immagino che in questo momento Ericsson non abbia altro pensiero che fare l'imbocca al lupo al suo fratello di nazionale, fratello di calcio Simon Kier. Adesso continuiamo ad affrontare questo tema perché è interessante. Intanto la segnalazione che molti di voi conoscono ma che faccio volentieri, che sottopongo volentieri all'attenzione di tutti, che è quella di OneFootball, che è un grande brand, un grande portale, una grande app soprattutto. L'app di OneFootball la trovate nella descrizione di questo video, c'è il link, è gratuito, scaricatelo, tutto quello che trovate dentro l'app di OneFootball è gratuito. È una grande proposta di calcio in streaming ma anche gratuito. Video, highlights, news, approfondimenti, curiosità. L'app di OneFootball vi aspetta nella descrizione di questo video. Quel 12 giugno Kier non ha salvato prima e protetto Ericsson poi per il calcio, per il mercato, per chissà adesso cosa succede. Lo ha fatto perché c'era un uomo a terra e l'unico pensiero di tutti noi era che quell'uomo si salvasse e che sua moglie non dovesse piangere più di quello che stava già facendo per l'ansia, comprensibile, la trepidazione. Mesi dopo, mesi dopo, c'è un'operazione da seguire, quello che trapela e che c'è un danno legamentoso, prima di capire di quale entità, di quale portata, di quale significato, di quale impatto, sarebbe giusto e doveroso intanto fare l'in bocca al lupo a Kier, non sancire che adesso voglio vedere il mercato, cioè generare, cioè da una notizia che riguarda Kier, ironia della sorte, appena stato a Parigi, diciottesimo calciatore al mondo per la lista del pallone d'oro, trarre spunto da un infortunio a Kier per fare polemica o sul futuro del calciatore o sul mercato, lo trovo veramente fuori luogo. Tanto ricordo a tutti che Kier, quando arrivato al Milan nel gennaio del 2020, quasi due anni fa, era stato vissuto dai tifosi rossoneri come un insulto, come un errore, chi come cosa Kier era, ma allora teniamoci Kaldara, ma allora ci sono due errori in uno, dovevamo tenere Kaldara e non dovevamo prendere Kier, queste erano le sentenze dell'epoca, adesso ce ne sono altre, ah ma adesso allora Kier, ah vabbè allora lui è finito e quindi il mercato, no non si fa così ragazzi, io voglio vedere prima domani il comunicato ufficiale del Milan che cosa dice, che cosa dice e poi eventualmente poi si commenta e si guarda avanti, ma prima si finisce questa serie di partite poi ci sarà il mercato, una soluzione il Milan se necessario al Milan sul mercato la trova sempre e anche che Kier era stata una soluzione alla quale nessuno aveva pensato e oggi si è rivelato ben altro che quello che si diceva nel gennaio del 2020. Certo è, certo è ragazzi che gli infortuni da noi ci vedono benissimo, appena rientra una colonna Mike Mignon oggi ho visto un commento secondo cui gli interventi di Mignon in Genoa-Milan non sarebbero stati stilisticamente perfetti, come? In che senso? Sono stati stilisticamente perfetti, sul colpo di testa di Ernani Mignon ha fatto una cosa gigantesca a mano aperta, insomma ragazzi non so francamente ma anche quello sul tiro da centrocampo ha fatto qualche passo indietro e la sua parata mi è sembrata una rovesciata, non la rovesciata di Nesta su Ferrara nella finale di Champions League perché la finale di Champions League come dite Sheva Sanno è una cosa e le partite di campionato pur importantissime sono un'altra, però è stata simile a una rovesciata. Però al di là di questa chiusa e aperta parentesi, l'infortunio da noi ci vedono in maniera dannata, recuperiamo una trave della squadra, Mignon e se ne infortuna un'altra. Di legamenti crociati del ginocchio purtroppo è piena la storia delle squadre, legamenti crociati del ginocchio sono sempre una brutta notizia ma noi non sappiamo ancora se è un legamento crociato nel ginocchio. Il Milan parla, insomma si trapela danno legamentoso, danno legamentoso può essere di vario tipo, può essere di varia natura, può essere in varie zone del ginocchio, vediamo, aspettiamo. L'esempio di vita che ci ha dato chi era giugno merita che noi si aspetti il risponso finale, sperando che sia il meno dannoso possibile ma non per noi, non per la stagione, per la squadra, per la classifica, per lui, per Simon, perché Simon è un uomo che se lo merita, che noi si aspetti il risultato finale della sua operazione per la sua salute, non per le nostre smanie. Perché se non capiamo che almeno su chi era il caso di fare un passo indietro rispetto alle solite polemiche, ai soliti veleni triti e ritriti di questo calcio, vuol dire che il suo esempio tanto non l'abbiamo capito. Io insisto, un avversario forse più forte di questa stagione del Milan sono proprio gli infortuni. È chiaro che poi se dovesse essere necessario parlare di mercato davanti a una lunga assenza di Kier, cosa fare dipenderebbe molto anche da quante e quali competizioni il Milan dovrà partecipare nel 2022. Noi oggi non lo sappiamo, sappiamo che il Milan farà il campionato della Coppa Italia, ma non sappiamo se nel 2022 il Milan farà la Champions League, farà l'Europa League o non farà nessuna delle coppe europee. Mi sembra che da questi piccoli particolari possano poi dipendere, piccoli particolari che tanto piccoli non sono, possono poi dipendere le scelte. Però dopo, prima la salute di Simon, prima capire che cosa Simon e vedere in che cosa consiste effettivamente questo danno legamentoso. Poi se ne parlerà adesso, ma l'intervento è in artroscopia, per cui anche se oggi tutti gli interventi vengono fatti in artroscopia di qualsiasi tipo, di qualsiasi natura, però io spero sempre, spero sempre. Avete visto Mignon, siamo stati tutti malissimo per Mignon, pensavamo tornasse nel 2022, pensavamo avesse Remore a mettere il polso, pensavamo non sarebbe tornato subito quello di prima, invece è già da fine novembre, primi di dicembre, che salta becca, para, fa e gioca. Quindi ragazzi, calma, 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 calma. E prepariamoci a pensare alla Salernità. Domani a Milanello, io penso che contro la Salernità, nello spirito della squadra, sarà quello di fare una grande partita per Simon. Simon è un formidabile collante, sia quando gioca che quando non gioca. È un grande esempio. L'uomo per il quale pronunciare il cognome significa doversi mettere veramente dritti. Per cui aspettiamo domani per Simon e giochiamo per lui la partita con la Salernità e non solo quella. Ci vediamo domani sia per la rassegna stampa che da Milanello dopo le dichiarazioni di Mr. Pioli. Ciao a tutti.